...che meno, quindi una bellissima gara di Charlotte Huston, e ora è la volta di Molly Hughes Bravo, se la Caricaduff Pett per il Portogallo. Next we go for Portugal, she is the second last to go. Molly Hughes Bravo by the Caricaduff Pett. Grazie a tutti. Sare il Portogallo in questa gara, 30 secondi e 55 per Molly Hughes Bravo e Caricaduff Pett. Eh sì, adesso sarà un bel duello perché Molly Hughes Bravo e Caricaduff Pett, ieri hanno ottenuto la seconda posizione.